Gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato di Marino in provincia di Roma a conclusione di una delicata indagine coordinata dalla Procura di Vellettri hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un 27enne gravemente indiziato da abusi sessuali nei confronti della nipote minorenne. Le indagini sono scaturite a fine giugno dalla denuncia presentata dal padre della vittima agli uffici di Polizia di piazza Don Luigi Sturzo a Marino. Il genitore ha raccontato di essere stato chiamato nel cuore della notte dalla figlia 14enne che mentre dormiva a casa del nonno sarebbe stata oggetto di attenzioni sessuali da parte dello zio. Immediata l'attivazione del Codice Rosso, i PM della Procura di Vellettri coordinando le indagini hanno disposto una serie di accertamenti tra i quali l'audizione protetta della vittima. Gli elementi raccolti hanno permesso di chiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vellettri l'emissione di una misura cautelare a carico dell'indagato. Sono stati poi gli stessi agenti del commissariato di Marino a eseguire la misura e hanno accompagnato il 27enne agli arresti domiciliari.